Biffe cercando No questi, crostini integrali Ci sono, c'è la farina integrale Ma c'è anche l'olio di palma Ok, non vanno bene Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog A supermercato da Lidl 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 Ho trovato questi crostini Si è già immersa nel crostini, crostini Di patatini, crostini Crostini integrali, c'è farina integrale di grano tenero E olio extra di aggine d'oliva Si Vabbè andiamo Io devo prendere sicuramente lo Skyr Devo fare scorta di Skyr Oh oh Sta per chiudere Sta per chiudere, mancano solo dieci minuti alla chiusura Dai ce la possiamo fare Guarda c'è anche la verdura Nelzi Ti sembrano i cetrioli, Nelzi? I cetrioli? Sembrano sempre Guarda, sono anche gli arachidi I pomodori, i funghi Le noci I cereali con l'olio di palma Questi qua Questi pare non c'era male Nelzi, questi mi pare non c'era male Quali? Eh no, c'è sì olio di palma No, no Che schifo Non me lo m'è Non me lo m'è Ma che cereale buono ce lo fa Lido? Dai Lido Ah, la pomarola Questa è buona perché è bio Yeah Quanto costa? Questa è buona, poi c'è lo zucchero E poi ti viene la cellulite Poi c'è il farro, i cecini, il riso Questo è molto buono Farina di farro, acqua, le semigliature e sale Questo è buono Ti serve? Sì, sì Ma vabbè Questi sono troppo invitanti, guarda Io ho yogurt con mesley, oh mio Dio Ma vabbè Sì, vedi se sono a zero grassi? No Uffa Vabbè ragazzi ho trovato queste che sono troppo carine Sono delle bat bombe, bombe da bagno Io me le prendo, hanno pure buoninci Vi do questa esclusina Nenzi, le vuoi tu? Sì, sì Ma non ce l'ho il bagno Non ce l'ho il bagno, Nenzi SOS, comprate un bagno per Nenzi Spray pan Comunque Ragazzi Questa volta finisce male davvero Io ve lo dico, eh Io ve lo dico Io ve lo dico Portatemi le arance Proviamo a prendere il mascara ma è finito C'è solo questo waterproof Comunque il mascara normale è molto buono Io avevo fatto anche il video con tutti i trucchi Shein Andatelo a vedere anche i rossetti e luce da labbra, non sono male E anche lo struccante Anche i smalti Tutto E gli ombretti anche Andate a vedere il video Solo questo, il fondotitano No, il fondotitano no perché c'è silicone eccetera Qualcosa, queste vabbè, sempre solite cose Buone, buone Questo dovrebbe essere nuovo Una formula Lo guardiamo un po' Guardiamo gli ingredienti Non c'è male, eh Questo qua non c'è male Però comunque quell'altro l'ha più buono Dove sta? Questo Era questo? No, non era questo Ma l'hanno tolto Forse l'hanno tolto e hanno messo questo Maledetti Comunque questo qua è anche buono Lo prendiamo E poi vi farò sapere E vi farò il video No vabbè, sono tristissima Che tragedia Cioè, è finito lo sky Io sono l'apposta Piamo questo a frutto almeno Meglio di niente, no? Piamoci due di questi No, datemi gli sky Mi prego Uffa, l'idolo, dai E vai, abbiamo trovato il quacca Dottura magro Dai, quacca magro Prendiamoli Abbondanti Io me ne prendo Io ce l'ho Io me ne prendo tre Dai, bondiamo Ragazzi, non si fanno riprese nel negozio Ah, noi abbiamo sempre fatte Era solo questa sui, io ti prendo una volta No, ragazzi, non si fanno riprese nel negozio Ah, noi abbiamo sempre fatte Era solo questa sui, io ti prendo una volta Questo è un reparto Del male Il male qua mi trovate sempre questo ne faccio un cioccolato si dove c'è Nancy si perde comunque ragazzi ci hanno appena richiamato e una persona qua da lì non ha riconosciuto e ha detto che non si possono fare le imprese dai Nancy ce la puoi fare guardate la mia sovelina con che grazia posa i carrelli di fette e furia qui c'è una parte della nostra spesa eccoci oddio quanta roba abbiamo comprato dai Nancy corri corri ma come sei agile Nancy sei agilissima dai seconda missione secondo Lidl ragazzi sconvolte da questa cosa che è successa a Lidl siamo dimenticate anche di registrare la fine io e Nancy comunque veramente siamo veramente allibite veramente da quello che è successo comunque infatti sa che abbiamo comunque fatto la nostra spesa tanti acquisti vi faremo anche il video dove mostriamo tutte le cose che abbiamo comprato adesso è tardissimo quest'una delle cose che abbiamo comprato mi raccomando lasciateci un like se volete vedere tutti i nostri acquisti soprattutto se vi piacciono i nostri video vlog a supermercato quindi io vi mando un bacio grande anche da parte di Nancy e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao